Le altre attività qui a Villa San Giovanni arrivano a 40.000 euro quasi di energia elettrica, lei è disposto a chiudere? Sì, non ci siamo arrivati ad un punto di non ritorno credo nelle attività, perché noi con tre attività ho già accumulato 40.000 euro anche se vado a redizzare, i mesi scorsi siamo già al 20 settembre e il mio gestore ha detto che stavano pronti ad emettere l'altra fattura. Quindi io ho 15 dipendenti, nel complesso devo mandare tutte le persone a casa, perché non si riesce anche volendo a poter pagare in nessun modo. Quindi è un punto di non ritorno, perché è un cane che si morde la coda. Se andate in banca, cosa fa andata? A redizzare che cosa? I gestori vengono a tagliarvi la luce, perché la mattina vengono a tagliarvi la luce e quindi di conseguenza prima che il giorno che loro verranno a tagliare la luce io mando i dipendenti a casa e vado a trovarmi occupazione, vado a prendere il rito di gestinanza perché mi confronto con le persone, perché vedo che un marocchino che di fronte a me guadagna più di me senza battere uno scontrino. Quindi io sono costretto a tenere dipendente, a gestire ogni giorno dei controlli che siamo peggio dei laboratori dalla mattina alla sera. Quindi siamo arrivati ad un punto che non si trova personale. E poi confrontarmi con il costo della vita, quanto si deve vendere un chilo di pane? Quanto si deve vendere? Quindi non c'è la possibilità di poter più andare avanti, è un punto di non ritorno. E purtroppo si arriverà alla rivoluzione civile, perché io penso che si arriverà alla rivoluzione civile. Le persone non possono più affrontare la mattina le spese, il costo dell'energia, la vita è già diventata, in sé per sé, tutto già difficile. Quindi aumentano le materie prime. La farina non è già arrivata a prezzi assurdi. Da 40 centesimi che pagavano la farina, quasi è arrivata a 1,20 la farina di semola. Quindi quanto deve essere questo costo di produzione che ci incide? Quindi questa è stata la mazzata. Io penso che i quattro soldi che ci hanno dati col Covid, loro li vogliono tutti indietro con gli interessi. E quindi sarà peggio di un'epidemia, peggio di una bomba atomica, perché ogni giorno sarà il crollo di un mito. Perché noi siamo, mi sento uno della storia, perché da 35 anni che sono sul mercato, ho pagato sempre tutti, ho pagato sempre i miei debiti, non ho mai fatto delle cattive figure, però adesso siamo un pochettino stanchi. E la cosa che vi fa paura è demoralizzare, per esempio, mio figlio, un ragazzo che stava intraprendendo questa attività, e vedo che già non ha più la voglia, perché effettivamente al giorno mi vede che è quasi una guerra la mattina, non è più, cioè non mi alzo io ad andare a essere un artigiano, a creare il mio prodotto, perché mi alzo la mattina ed è una guerra, ogni giorno è un'avventura. E quindi quando arrivano queste bollette, con queste cifre da capogiro, dici tu, ma chi te la fa fare sta vita? Alla fine ho 54 anni e continuando da questo passo credo che non vedrò la pensione, perché io parto da un presupposto che se voi mettete i soldi in una tasca, bene o male si ritrovano. Quindi lo Stato deve capire che se noi versiamo i contributi, le partite IVA, allora prima o poi le pensioni li pagano, ma prima o poi andrà tutto in check out così, perché se noi non paghiamo tutto, prima o poi tutto andrà a finire, quindi crollerà tutto, per forza deve crollare, perché è un castello che crolla. Non possono loro avere le pensioni da 40-50 mila euro adesso in tasca, sono tranquilli adesso, ma prima o poi succederà questo, perché non ci sono le condizioni. Perché è come un portamonete, se voi mettete là dentro, tutti prendiamo, prima o poi tutto andrà a rotola. Ecco Maria, iniziamo con te, tutti i lotti per i negozianti, fai parte di un'associazione di Villa San Giovanni. Oltre il signore che abbiamo qui ai nostri microfoni, ci sono altre attività, che chiuderanno, chiuderanno battenti. Noi abbiamo un comitato che è il Comitato del Commercio Villese, che si è formato circa 4 anni fa, abbiamo iniziato con un paio di attività, adesso quasi siamo 100, e bene o male le difficoltà sono tutte uguali. L'indifferenza è quella che ci dispiace, perché ormai sembra quasi tutto dovuto, noi dobbiamo versare, dobbiamo pagare le tasse, abbiamo dei costi eccessivi, però nessuno ci dà una mano, ma nessuno in tutti i sensi, a livello nazionale, a livello comunale anche, sono arrivate anche tasse comunali che noi non riusciamo a pagare e che dovremmo rateizzare, che non ci danno nemmeno l'opportunità di rateizzare. Quindi questo è un... Aumenti da tutti gli enti, oltre che privati, che anche lo Stato. Sì, aumenti in generale, noi abbiamo, io ho un'attività, un istituto di bellezza, anche lì le difficoltà ci sono, perché è tutto un susseguirsi. Se la persona non riesce a lavorare automaticamente, come ha detto Lillo, devi licenziare, quella persona che licenzi non avrà niente da... cioè non avrà i suoi soldi a disposizione per poter fare economia, ecco come voglio dire io. E quindi che cosa succede? Succede che l'indotto anche ne paga le conseguenze. È tutto un giro, che è tutto legato, legato a tutti, ai commercianti, la gente, anche le istituzioni, non hanno capito che noi commercianti siamo la base dell'economia italiana. Senza di noi andrà tutto alla rovina. Quindi la cosa importante, io l'altra volta leggevo, ho visto anche qualche intervista di qualcuno, ognuno ha, non lo so, cerca di trovare la soluzione, ma alla fine queste soluzioni non ne trova nessuno. Tutti parlano, tutti sanno parlare, ma in fondo poi alla fine non c'è il... Noi ci ritroviamo a dover combattere, alzarci la mattina, cercare di trovare la possibilità, di cercare di recuperare qualcosa, perché adesso questo è recuperare qualcosa, per poter fare cosa? Per poter pagare? Questo è.